Io penso che dentro il vino ci deve essere te stesso, ci devi essere tu. Io mi sono fatto un vino simile a me stesso, come sono fatto io. Non per niente il mio segno zodiacale è leone ascendente leone, quindi un segno caldo, un segno irroente, un segno corposo, e quindi ho cercato di trasmettere tutto il mio essere e di creare proprio, di trasformare, di mettere tutto il mio dentro quella bottiglia. E quindi il mio ideale è che quando uno beve il mio vino e conosce la mia persona trovi una similitudine.